Raff, puoi andare. Per cominciare, 30 donne nella settimana, va bene? Aspita, benissimo! Alla prossima! Da parte di Don Nicolò. Ok. Thank you. Don Nicolò, teniamo dietro un'automobile che a me non mi convince. Sapete che facciamo? Mo' ho appena voltato l'angolo. Voi saltate e li buttate in un portone. Così io me li tiro dietro. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.